Siamo molto felici di ospitare qui una delle tappe del compleanno dei 90 anni del Museo dell'Auto che sta facendo questo evento diffuso per celebrare questo importante compleanno. Una di queste tappe qui nel nostro palazzo, Palazzo Birago, dell'architetto Yuvarra, dove ospitiamo questa auto del 1898, la Benz Velo, la prima auto prodotta di serie che rappresenta una delle chicche del museo che quindi potrà essere visitata qui all'interno della Corte del nostro palazzo in via Carlo Alberto XVI.